Ciao a tutti ragazzi ed eccoci a un nuovo video di FamGamers Come vedete abbiamo appena acquistato il labradoro di metanfetamina Stiamo entrando E ancora da allestire Il funzionamento sicuramente sarà come la sera d'erbo alla fabbrica di banconote Abbiamo deciso di comprarlo per portare al massimo Comprando anche quello di cocaina e di banconote contraffatte Documenti falsificati al massimo nel nostro nightclub Andiamo ad allestirlo Facciamo un allestimento veloce insieme Confermiamo Ecco che arriva la llamada Ok dobbiamo fare un bel po' di strada Beh ragazzi se questo viaggio andrà bene lo skipiamo e ci vediamo direttamente all'arrivo Eccoci qua un bel furgoncino Eccoci qua arrivati al furgone per allestimento Dobbiamo fare 10 km di ritorno per allestire il nostro laboratorio di metanfetamina Ovviamente anche qui se tutto va bene lo skipiamo senza problema e ci rivediamo al nostro laboratorio Bella ragazzi siamo tornati Stiamo tornando al laboratorio di metanfetamine Questo bel camioncino per l'allestimento Qua si parcheggia sul retro Perfetto Allestimento completato La produzione di metanfetamina è stata avviata Ora ci farò vedere probabilmente un mini video Ok laboratorio di produzione Gli scaffaletti come magazzino Uh sarebbe bello avere la marcia piena Ovviamente come gli altri stabilimenti Questo si fermerà se sarà finita la merce O se ci sarà troppa merce invenduta Il computer per gestire i rifornimenti e le vendite E le migliorie Ed ecco avviato il nostro stabilimento per metanfetamine ragazzi Adesso abbiamo la sera d'erba La fabbrica di banconote contraffatte E il laboratorio di metanfetamine Presto avremo anche quello di cocaina e di documenti falsificati Grazie a tutti per la visione E ci becchiamo al prossimo video Perfetto abbiamo ricevuto la chiamata dal socio Vi invito a lasciare un like e un commento qui sotto al video Alla prossima Perfetto abbiamo ricevuto la chiamata dal socio